È stata una grandissima partita, avete stretto i denti e avete dimostrato carattere e tutto quello che ci voleva. Sì, quello che ci vuole. Se no ti va difficile vincere una partita nel play-off, però come hai detto tu, più importante è che in tutte le tre zone abbiamo giocato un po' più compatto anche con il disco. Ti sta facendo un assist Fazzini. Cosa? Ti sta facendo un assist Fazzini. Sì, perché lui lo sa che mi piacciono le gicche. Lo sponso adesso. Sì, però ripeto, era veramente una vittoria della squadra che abbiamo giocato meglio insieme. Non aver subito reti e aver dimostrato che il vostro portiere è superiore a loro. Spero, no, non è la prima partita che gioca alla grande. Quindi è chiaro, comincia con lui, fa dei pick safe nel momento giusto. Così ci dà sempre la chance di vincere dopo fare un gol a parte nostra. Però, infatti, puoi avere veramente fiducia con un portiere così. Se gioca lui, se gioco Schleghi, è indifferente. E dopo tocca a noi davanti fare la differenza. E con un Valker che lotta, che combatte così, si può vincere anche a Ginevra? Spero tanto, ma dopo non è che lotto solo io, siamo tutti che lottiamo insieme, è quello che è più importante. Poi magari fai gol che ci serve per vincere la partita. Dopo vi devo ancora nevicare, sì. Grazie, complimenti. Grazie.